Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale YouTube Oggi è lunedì, lunedì vuol dire solo una cosa Analisi, gameplay E oggi torniamo ad analizzare Anders Bergang Il ragazzino danese Fenomeno Che anche dopo la patch continua a fare faville Destra e sinistra, ogni volta che accende una live per fare una partita di WL o di un torneo Ci andiamo ad analizzare la partita giocata in una delle ultime Blackie Cup contro Adriman Che abbiamo visto già giocare contro Principe, quindi parliamo di un top 4 europeo, non dell'ultimo arrivato E insomma questa partita merita davvero di essere vista Prima di passare sul game, due paroline perché veramente leggo tanto Astio nei confronti di questo ragazzino Spesso si cerca il pelo nell'uovo per cercare di criticarlo Ma veramente, io non so quanti di noi a 14 anni fossimo dei role model comportamentali Per cui è un ragazzino, è chiaro che magari alle volte esagerano alcune cose eccetera eccetera Ma fa tutto parte del gioco Quindi non esageriamo, non voglio leggere commenti strani giù nel box Quindi mi raccomando, voi che so che siete una community matura, quella che mi segue Guardiamoci la partita e insomma davanti a un fenomeno del genere c'è solo da alzarsi e applaudire Perché talenti così ne nascono una volta ogni cent'anni Così come nel calcio o in qualsiasi altro sport, anche negli sport Bene, adesso passiamo subito sulla partita dove abbiamo anche la nostra classica lavagna tecnico-tattica che ci attende Ed ecco subito il game che parte con il kickoff gestito dal buon Anders Che tra l'altro si presenta con questa visuale molto molto vicina Non so se è una predefinita addirittura super zoomata o una classica Mi sa che l'ha cambiata l'ultima volta Comunque al solito pattern per cercare di allargare la squadra di Adriman Che abbiamo visto essere un bravo difensore Qui doppi passi ripetuti da parte del ragazzino Come sapete passaggio che però R9 decide di consegnare nei piedi di Kloster Ma allora il buon Adriman può ripartire Per cercare di buildare quella che è la sua azione classica Ossia la ricerca del filtrante come abbiamo visto anche nel match contro Daniele Bravissimo lui nella costruzione dei filtranti Qui è una prima cosa che ci terrei a sottolinearvi e a farvi vedere Perché guardate qua in questo momento Lui dà con Renato Sanchez la palla a Davis E con Mbappé diciamo che cerca di avvicinarsi a quel Davis Nel momento in cui lui prende Davis Esattamente ora Osservate dalla minimappa Lui non ha spazio di visuale Ma dalla minimappa potete notare che ha preso il terzino Guardate vedete che il terzino è illuminato Quindi lui ora sta controllando questo E perché l'ha fatto? Perché lui ha già letto l'azione E sa che con questo Walker deve andarsi a mettere di fronte all'esterno di Adriman Per ricevere il passaggio che andrà lì E infatti è proprio quello che accade Guardate come con Davis la palla sulla fascia viene intercettata da Walker Allora lui può ripartire con questa azione rapida di contropiede Che però viene rallentato dall'ottima chiusura di Adriman Che poi recupera anche con Alfonso Davis Qui tenta il classico filtrante di cui vi parlavo Ma viene chiuso Guardate ancora una volta come va a pressare altissimo con Mbappé Ancora con Ronaldo induce poi all'errore Bruno Fernandes E cerca di ripartire con questa giocata dal interno verso l'esterno Ancora verso l'interno E guardate qui che barco che si è creato per Gullit Qui non ha fatto altro che schiacciare L1 Perché come sapete si possono far scattare i giocatori schiacciando L1 E quando vedete il movimento del braccio così a indicare la direzione Vuol dire che è stato schiacciato L1 Quindi Gullit andrà ad aggredire questo spazio che si è creato E il passaggio di Ronaldo arriverà qui con una facilità disarmante Perché qua non c'è il tempo per reagire a questa situazione Questo difensore non può andare a chiudere Non può fare assolutamente nulla Perché c'è troppo spazio nel quale Gullit si è andato a buttare Infatti la palla da Ronaldo dopo il doppio passo viene data proprio su Gullit Che con il mancino qui sbaglia clamorosamente davanti a Noyer Quello che sarebbe stato un gran gol Qui altra chiave di lettura Perché da questo calcio d'angolo la palla viene data dentro a Ronaldo E qua secondo me ha sbagliato a girarsi il buon Anders Andiamola a vedere subito Guardate com'è bravo a costruire l'azione Perché lui sa col classico movimento a scaletta Che Ronaldo verrà fuori Movimento numero 1 Quindi movimento numero 2 sarà poi la sua giocata Il passaggio verso Ronaldo che poi si dovrà girare e calciare a rete Movimento numero 3 Invece che cosa fa lui? Dopo aver fatto benissimo la scaletta e dare palla a Ronaldo Guardate qua Qui per me lui ha segnato Basta semplicemente fare una finta di tiro verso di qui O semplicemente orientare il corpo e tirare Fa un movimento in più Torna sul sinistro e sbatte su Klosterman Avviando un pericolosissimo contropiede Perché si trova scoperto Qui Gullit perde il rimpallino Vedete qua come Adriman è bravissimo Con due filtranti a capovolgere l'azione Arriva poi a 2x2 ed è bravo a imbucare la rete del vantaggio Quindi questa è una situazione tipica Che si viene spesso a creare Ossia il contropiede da calcio d'angolo Quindi occhio sui calci d'angolo Piuttosto che perdere palla magari tentate un tiro O resettate l'azione Piuttosto che andare a sbattere contro la difesa Perché poi questi sono i risultati E potete avere una tacca, due tacche d'angoli Ma sto contropiede se giostrate così l'azione Lo andrete sempre a prendere Quindi a sorpresa il nostro pupillo danese Va sotto nel punteggio Cerca subito di ritornare però a galla nel risultato Guardate come scambia bene con le due punte Però ancora una volta il passaggio verticale intercettato Vedete come lui comunque non ha paura di velocizzare i tempi E tentare una giocata un po' più diretta Piuttosto che tornare indietro Qui ancora una volta con Bappé E' abilissimo nella pressione alta a recuperare palla Sempre dall'esterno verso l'interno ragazzi Guardate come cerca di far aprire la scatola avversaria Qui magari poteva anche riallargare sotto Guardate come non schiaccia praticamente mai Il tasto della corsa Sembra quasi giocare a subbutio Gli unici momenti di accelerazione che fa Sono quelli che gli derivano dal boost di velocità Che prende con il doppio passo Qui la palla data ottimamente dentro per Ronaldo Si gira e si rigira Ottimo l'autoblock di Klosterman Per rimpallare il tiro Vedete come lui comunque si senta proprio totalmente confident Qualsiasi azione inizia a buildare Già sa che può diventare un'azione pericolosa Guardate qui come aveva rovesciato nuovamente bene il campo Magari poteva dare un attimino palla a quel Neymar Prima Che si era liberato alla grande Qui guardate come esce altissimo Anche un po' in maniera troppo spregiudicata alle volte Ma i tempi di switchata che ha in testa Ce li ha solo lui E gli consentono di fare pressoché quello che vuole Qui è andato un po' a vuoto con quel Gullit Gli è andato poi bene che il passaggio non fosse super preciso Però quest'uscita con Gullit è stata un po' ardita Sto filtrante anche non era proprio il massimo della vita Qui buona la palla dentro di Adriman verso Ronaldo Che però ribatte su Maldini Qui magari una finta di tiro per fermarsi Sarebbe stata una scelta migliore per eludere l'intervento del difensore Guardate come anche il buon Spagnolo dalla fascia Cerchi di aprire la scatola difensiva di Adriman Con Bruno Fernandes Il fenomeno qui si era liberato benissimo La palla infatti poi arriva proprio su Bruno Ma il passaggio è leggermente lungo Fosse stato tarato coi tempi giusti Si poteva tradurre in un In un tiro di prima magari ad incrociare Che avrebbe sicuramente trovato una maggiore Una maggiore fortuna Qui con Gullit ancora una volta Il buon Anders cerca di chiamare anche alla manovra I terzini che svolgono un ruolo fondamentale Per cercare di liberare i suoi giocatori Guardate come con Gullit si sia ritrovato Dentro l'area Qui si trova in una situazione di 1v3 La palla poi con questo rimpallo fortunato Arriva a Ronaldo Però lui il gol per me l'aveva già fatto Più o meno in questa situazione Perché si era iniziato a buildare la scaletta Nel momento in cui Mbappé riceve la palla qua Io la giocata che avrei fatto Ovviamente poi è facile dopo a commentare Però insomma non avrei cercato uno scoop turn Perché non c'era abbastanza spazio tra i due giocatori Qui si avesse aspettato Facendo un movimento verso questa direzione Ronaldo avrebbe continuato il movimento a scaletta A rientrare Quindi sarebbe stata la giocata più safe Un passaggio che gli avrebbe permesso poi di calciare In maniera molto più tranquilla Invece lui niente Si gioca questo scoop turn La palla poi arriva comunque sul piede di Ronaldo Per cui si riesce comunque a pareggiare il match Gli spara anche un'esultanza in faccia Del non ti sento E quindi il risultato che ci si va a fissare Sull'1 a 1 Al trentatresimo Adriman cerca di ripartire subito Con la sua classica manovra Ma vedete come Anders recuperi il pallone Praticamente in tempo zero Subito dopo il kickoff Ancora dall'esterno Cerca di aprire la difesa dello spagnolo Che però fa buona guardia Rimesse laterali che sono una situazione molto pericolosa Se giocate bene Aprono veramente tanto le squadre avversarie Quindi anche questi sono dei temi tattici Che vanno spesso e volentieri analizzati Perché nulla è lasciato al caso a questi livelli Anche una rimessa laterale battuta in un certo modo Ti permette di poter creare un qualcosa di pericoloso Magari dal nulla Guardate qui come con le switchate Si ritrovi praticamente sempre a ridosso dell'avversario E Adriman non riesca a tenere il pallone Sembra veramente che sta giocando contro un oro 1 Ma senza offesa un oro 1 Solo per far capire la discrepanza che c'è di livello Qui buona anche la palla che era stata data dentro Ma Klosterman fa buona guardia Calcio d'angolo ancora una volta battuto vicino Anche io li preferisco battere vicino Vediamo se questa volta non ci prende un bel contropiede Palla verso Maldini Poi Gullit R9 Ottimo il doppio passo Questo è un grandissimo grandissimo gol Perché questa giocata qui di palla lì per Ronaldo Ronaldo va bene che mi fai il doppio passo Rientra Ma questa giocata della suola Per orientare il tiro È da campione vero Quindi gran giocata Di una facilità Tra virgolette Nel guardarla devastante Ma nell'andare poi effettivamente a trovarla E realizzarla Per niente Ti deve venire lì di fare il buon role Non è assolutamente scontato Quindi 2 a 1 per Anders Che ribalta il match In praticamente 10 minuti di gioco Quando siamo ormai al 43esimo Vediamo se Adriman sarà in grado di sfruttare Questo kickoff Più un minuto 45 Si perde un po' con questa Ronaldo Cioppa Avrebbe potuto sicuramente rallentare E dare magari palla al centro Anders però riesce a recuperare il pallone Allora l'ultima azione del primo tempo Spetta a lui Con questa cavalcata di Neymar Palla proceduta ad R9 Buono qui il bridge E la palla Si va ad insaccare all'angolino Questo è anche un altro tema Molto interessante da andare ad analizzare Perché guardate qui Come lui vada a tentare il bridge In questa situazione Bridge che viene performato sempre con il piede destro Da parte del giocatore Per cui avendo qui il giocatore selezionato da Adriman Alla sinistra Del suo attaccante Ovviamente non può mai arrivare su questo pallone Il buon Walker Per cui questo bridge è realizzato in maniera assolutamente impeccabile Prende il campo che deve prendere Si porta in condizione di poter tirare E insacca la rete Che gli vale il 3 a 1 Sfruttato quindi alla grande il 35esimo Difeso il suo kickoff E rovesciata invece la situazione Quella che sembrava una partita molto in salita E trasformato in una partita in discesa Nell'arco praticamente di 15 minuti Di 15 minuti in game Per cui GG Per il buon Anders Che se l'è gestita veramente Veramente alla grande E andiamo a riposo Proprio sul risultato di 3 a 1 Adriman cerca nell'intervallo Di fare qualche cambio tattico E cerca di sfruttare questo Questo kickoff Che ha davanti a sé Vedete come al solito Palla che dall'esterno viene data Dall'interno viene data all'esterno sul terzino Poi si passa per via centrali Dove c'è Bruno Che deve cercare di impostare E trovare la via della rete per i compagni Ma guardate Anders Come con gli switch è sempre Al posto giusto Al momento giusto Vedete come è anche Insomma migliorato Nell'aspettare in alcune situazioni Qui ad esempio ha aspettato con Varane E ha rinculato con il centrocampista Piuttosto che uscire a cannone Altrimenti la situazione sarebbe stata Ancora più grave di quella Che poi si è risolta in un tiro a giro Del fenomeno che non ha impensierito Più di tanto il suo portiere Comunque Adriman è partito abbastanza sul pezzo Durante questo secondo tempo Vedete come cerca di trovare almeno il gol Che gli permette di poter accorciare le distanze Qui si libera la grandissima Rashford Ed è bravissimo lui a vederlo Buono anche il doppio passo più finta Ma questo Mendy non ti lascia veramente Libertà di manovra Qui errore da parte di Anders Secondo me Perché questi lanci con cerchio in mezzo al campo Quest'anno sono veramente qualcosa di Di marcio Per cui spesso e volentieri Vengono Si risolvono poi in quella che è La riconquista da parte della difesa Qui aveva visto una grandissima palla Filtrante alta verso Kulit Però il passaggio viene intercettato Dal difensore di Adriman Guardate qui che filtrantone Che ha fatto lo spagnolo Ma qui il movimento del portiere Va a salvare Anders Filtrante che si è stato fatto perfetto Abbiamo visto come lo spagnolo Contro Daniele sia un fenomeno in questo senso Però insomma Non mi spiego come non abbia Recuperato palla il difensore Qui era riuscito nuovamente Ancora una volta a passare Ma il movimento del portiere lo ha salvato Qui lo ha salvato anche l'autoblock Probabilmente in queste ultime azioni Meritava di trovare la rete Adriman Per come se l'era gestita Sono più o meno 15 minuti Da quando è iniziata la ripresa Di forcing da parte dello spagnolo Che al momento non riesce però A trovare la rete del 3-2 Anders intanto richiede una pausa Vedete come con pazienza Cerca di liberarsi per servire i suoi Guardate come utilizza tantissimo Quella suola da quella posizione per accentrarsi Ed è un tema Questo che ormai si è riproposto più volte Durante la partita E merita assolutamente Di essere apprezzato Perché è una cosa che serve tantissimo Per orientare la giocata Intanto dopo gli aggiustamenti tattici Siamo ritornati subito in presa diretta Con questa palla giocata poi Nella zona di Hullet Che cerca e trova Neymar Che qui onestamente Poteva secondo me andare ad aggredire Ancora di più l'area Però è comunque poi bravo A liberare lo spazio per Cristiano Ronaldo Che insacca la rete del 4-1 Però questa secondo me vale la pena Di essere rivista come azione Perché ha perso Secondo me un tempo di gioco Guardate qui una volta che la palla Qui da Neymar Da Hullet va a Neymar Qui non c'è bisogno di questo doppio passo E di questo elastico Qui c'è semplicemente bisogno Magari di un doppio passo Banalmente di andare semplicemente dritto Perché c'era tutto questo campo Facendo l'elastico Si viene a creare questo effetto di rientro Che si serve a buttare dentro Ronaldo Ma che secondo me era totalmente evitabile Qui è stato più bravo a recuperare nell'errore Che a sfruttare l'occasione che aveva creato Secondo me Vedete Ronaldo come si butta dentro E trova la rete del 4-1 Quindi 66esimo con Adriman Che dopo essere stato in vantaggio Si ritrova sotto di tre reti Visibilmente tiltato Vedete come rallenta tantissimo nelle giocate E diventi un pochino prevedibile Qui ancora una volta switchata perfetta Al limite dell'aria con Maldini Adriman che alza la squadra E alza la squadra Ovviamente si espone a quelle che sono le cavalcate Del buon Anders Che ha tutto lo spazio Per poter andarsene in contropiede E colpire Guardate qui come gestisce alla grande La palla con Son Per liberare poi lo spazio Al centro verso Ronaldo Poi però viene chiuso Scivolata con Maldini Che gli costa anche il cartellino giallo Qui rivediamo questa giocata di Adriman Che cerca un filtrante Secondo me un po' troppo esagerato Si scopre in maniera clamorosa Qui Anders vede un filtrante Che ragazzi miei non lo so Non lo so proprio cosa ha visto Qua poi gli fa sto gollo a pallonetto Che è un po' buggato Ma ragazzi miei qua ha visto Un filtrante Che è veramente devastante Palla dentro E pallonettino Per la rete che vale Il 5 a 1 Filtrante qua veramente esagerato Dato quei tempi giusti Sul movimento giusto Quando praticamente I due giocatori sono distanti L'ampiezza di un braccio Quindi veramente GG su questa giocata Ha visto un corridoio clamoroso Il buon Adriman Qui si costruisce una buona azione Ma Maldini è abilissimo Nel recuperare Nel recuperare il pallone Qua ancora una volta Un filtrante Di quelli belli importanti Però stavolta Neuer Fa Fa presa Neanche troppo comoda Perché Ronaldo era arrivato Era arrivato Guardate qua che intervento ha fatto Con Varane Questo lo voglio rivedere Perché qui La palla da Neuer Viene ceduta Su Closter Ma lui Ha già selezionato Ora Cioè Ha già selezionato Varane per andare in anticipo Clamoroso E gli recupera palla Questa scivolata da dietro E per poco la palla Non era Non era la sua Quindi veramente Clamoroso Clamoroso Negli interventi difensivi Nelle switchate Nel tempismo Ragazzi Sembra Sembra un robot Per gli autismi Per gli autismi Per gli automatismi Che ha Intanto qui Ancora una volta Palla al piede Palla dentro Per Ronaldo Rete del 6 a 1 Ancora una volta Geniale ragazzi Geniale Non banale Perché qui Blank Si ritrova Il buon Closter Ma andavanti Ok Quindi questo passaggio Qui non lo può fare In maniera semplice Perché tra Ronaldo E Blank Abbiamo l'uomo di mezzo Che avrebbe tranquillamente Potuto intercettare la palla In questo In questo spazio Invece lui che cosa fa Per eluderlo Per eludere Il L'intervento di Closter Ma non fa Doppio tap Con triangolo Quindi Con il doppio triangolo Sapete che la palla Si alza Difatti si alza Va a scavalcare Il marcatore Arriva Sui piedi di Ronaldo Che non deve fare altro Che concludere in rete Per quello che è il gollo Che vale il 6 a 1 A 10 minuti dalla fine Ragazzi Stiamo assistendo a un match Tra uno che purtroppo Non può competere E un top 4 europeo Del primo torneo Quindi non mica pizza e fichi E non regge la cosa Della gente Che mi dice Eh ma Non sono competitivi Questi tornei Il cavolo ragazzi La gente in questi tornei Tra yard È livello altissimo Perché partecipano Tutti i migliori giocatori europei Tra yardano come i pazzi Perché ovviamente Ci sono soldi in palio E nessuno vuole mai perdere Anche qua Una grandissima giocata Vedete come recupera palla Con Gullit Qui si va in abbildare Quest'azione di Superiorità numerica Non banale Su doppio passo Per rallentargli I due difensori centrali Che quindi non possono uscire Ma devono andare a chiudere Sul fenomeno Palla poi allargata Per Neymar Che trova Sto gol sul primo palo Che io personalmente Non avrei manco mai provato Perché Non siamo più su FIFA 20 Però Lui invece lo prova E trova anche Una grandissima Una grandissima rete Guardate ancora una volta Come con Blanc Esca Come un pazzo criminale Ma riesca A recuperare il pallone Poi con palla scaricata Verso Neymar Ronaldo Allargata nella zona Di Son Con Davis Che fa Che fa buona guardia Qui Classica giocata Di Adriman Lunga sulla fascia Nella zona di Mbappé Mbappé fino in fondo Ottimo il borrolo Più scupturno Che vi ho insegnato Palla poi al centro Per Son Per la rete Che vale il 7 a 2 Ma giusto il gol Della bandiera Arriva poi Anche la rete Del 7 a 3 Con quest'altra giocata Sempre Diciamo Che non varia Più di tanto Vedete Come ancora una volta Palla Dentro per Ronaldo Col fotocopia Per la rete del 7 a 3 Con Mbappé Che andava avanti Guidato da un'ignoranza Fatale Ha iniziato a fare cose Proprio a tirare dritto Per metterle in difficoltà Perché sono le uniche cose Che forse Non si aspettava E quindi Il buon Anders Mi ha liquidato Adriman Con un pulito 7 a 3 Come se stesse Giocando al torneo Della parrocchia Torneo che tra l'altro Poi andrà a vincere In finale Contro il nostro Cosimino E insomma Ormai Ragazzi Le parole Per descrivere Questo fenomeno Sono finite Stiamo assistendo A qualcosa di incredibile Quest'anno E vi ripeto C'è solamente da applaudire E cercare di Imparare qualcosa Per questo video Siamo arrivati al termine Vi ricordo di lasciare un like Un commento Iscrivetevi al canale Tutte quante le info Per le live giornaliere Le trovate in descrizione E a me non resta altro Che salutarvi ragazzi Ciao Ciao